Vi è piaciuto vincere facile? Ora però ne state pagando le conseguenze. La battuta arriva dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle ed è rivolta direttamente al sindaco di Campobasso Battista e alla sua maggioranza che a dire il vero non attraversano una fase tranquilla perché le contraddizioni che caratterizzano una coalizione così composita stanno venendo tutte a galla. I 5 Stelle le hanno elencate nella conferenza stampa convocata al Comune ma prima di affrontare l'aspetto puramente politico, gli attivisti hanno ricordato l'esposto presentato alla Corte dei Conti per presunto danno erariale. L'esposto fu presentato già il primo di aprile di quest'anno. L'elemento di novità è una lettera del segretario generale che ci è pervenuta a seguito di accesso agli atti che di fatto un po' suffraga quello che noi ipotizzavamo ad aprile e per questo abbiamo fatto l'integrazione all'esposto di aprile presentato il 19 di novembre. Secondo noi c'è una sovrapposizione tra il segretario generale e il dottor Iacobucci che di fatto svolge il ruolo di direttore generale in una città sotto 100.000 abitanti questo non è previsto perché lo dice un decreto legge. Potrebbe cadere che magari la Corte dei Conti verifichi questo e si realizzi eventualmente una responsabilità per danno erariale perché sono spese i 180.000 euro per una figura che non dovrebbe esistere. E poi c'è l'aspetto politico con il caso Iafigliola che sta provocando un vero e proprio terremoto politico. Una maggioranza malata di poltronismo hanno denunciato i 5 Stelle e una situazione hanno detto ormai pronta ad esplodere. Un vaso colmo, questo lo stiamo dicendo da troppi mesi ormai e questa coalizione è così ampia, troppo ampia sta facendo emergere tutte le criticità che ci aspettavamo. Le dimissioni del Presidente del Consiglio Iafigliola in realtà nascondono tutti quei mal di pancia che in questa maggioranza stanno di fatto immobilizzando l'intera amministrazione di Campobasso che è ostaggio delle rivendicazioni non di natura politica ma di natura esclusivamente poltronista direi da parte di alcune componenti che alzano la voce pretendendo fino anche all'allargamento della Giunta cosa che noi riteniamo assolutamente improponibile perché l'allargamento della Giunta innanzitutto non rientrava assolutamente tra i programmi elettorali di questa amministrazione in più porterà inevitabilmente un aumento di costi a carico della collettività che sicuramente questa amministrazione non può e non deve sostenere. Basta guardarsi intorno, il fatto che questa città sia completamente ferma ancora al maggio 2014 ovvero quando questa amministrazione si è insediata con grandi proclami, grandissime promesse un bellissimo programma elettorale ma in realtà ad oggi non è stato fatto assolutamente nulla di tutto ciò che doveva essere fatto.